Quindi sì, penso che questo sia un film fortemente politico, anche poetico, e c'è bisogno di un cinema così, quindi grazie di avermi scelto, anche così perché il lavoro dell'attore è un lavoro incostante, instabile, e soprattutto giovani come noi, da giovani è difficile che qualcuno ci affidi un ruolo così, invece sono stato scelto su fiducia, magari ha visto il mio showbill, però insomma non è che ho fatto molto, sono figlio d'arte, ho questa fortuna, peso leggero, mi piace chiamarlo, però insomma mi ha scelto a istinto, credo, su fiducia, sugli occhi, insomma, e questo, insomma sono molto grato di questo e di quello che ha fatto, quindi grazie a tutti. Grazie.